Intorno alle 6.30 di domani mattina, domenica 8 maggio, con un'esplosione controllata sarà demolito l'ex zuccherificio che è situato in via Erasmo Piaggio a Chieti Scalo. Un'operazione delicata che inevitabilmente porterà anche delle modifiche alla viabilità con la chiusura di alcune strade nell'area interessata da questa operazione che dovrà svolgersi ovviamente in estrema sicurezza. Costruita a Chieti nei primi anni 50 per fronteggiare la disoccupazione di quel periodo, la struttura dello zuccherificio tiatino riuscì a dare lavoro a circa 400 persone, divenendo in breve un punto di riferimento anche per gli agricoltori della Val Pescara che nel sito di Chieti Scalo portavano le barbabietole coltivate nella zona. La produzione si interruppe tra il 1974 e il 1975 e da allora l'edificio si tramutò in un reperto di archeologia industriale del Novecento. Attualmente di proprietà del gruppo Toto, l'ex zuccherificio di via Piaggio nell'area industriale di Chieti Scalo sarà infine demolito con un'esplosione controllata ad opera della società Nitrex. Le operazioni di abbattimento si svolgeranno dalle 6 alle 9 di domattina, così come stabilito nella riunione che si è svolta in prefettura a Chieti alcuni giorni fa con il sindaco Diego Ferrara e la comandante della Polizia Municipale Donatella Di Giovanni. Per permettere che tutto si svolga in estrema sicurezza dal collegamento dei detonatori al brellamento e alla successiva bonifica dell'area, alcune strade saranno chiuse al traffico veicolare pedonale, come l'asse attrezzato tra l'uscita Piceno a Prutina e Chieti Scalo nella zona industriale, interdetto su entrambi i sensi di marcia, con l'ANAS che provvederà alla materiale chiusura dell'arteria dal chilometro zero all'uscita Piceno a Prutino in direzione Pescara, con uscita obbligatoria per il traffico proveniente da Pescara all'uscita Piceno a Prutina. Sarà inoltre impedito l'ingresso dalla rampa Piceno a Prutina da via Giuseppe Tognolo, così come da tutte le rampe di accesso alla zona interdetta. Chiusa al traffico anche via Marvin Gelber da via Piaggio fino alla rampa di accesso numero 12 dell'asse attrezzato e via Piaggio da via Marvin Gelber alla rotonda di via Marsinel. Le operazioni di demolizione saranno seguite anche dalla Polizia Municipale di Chieti affinché tutto vada al meglio e nei tempi più brevi possibili, così come ribadito dalla comandante Donatella Di Giovanni. Secondo il cronoprogramma presentato dalla ditta Nitrex, la detonazione avverrà intorno alle 6.30 circa. La chiusura delle strade scatterà pertanto dalle ore 6 per finire a detonazione avvenuta e a bonifica effettuata delle strade interessate. Poi, sui 17 ettari dell'ex zuccherificio, potranno iniziare i lavori di riqualificazione dell'aria, secondo i progetti presentati che prevederebbero impianti sportivi e attività di interesse commerciale.